Questa è la nuova The Nord Machine, che rispetto al 99% delle picche dry dry è più performante su ghiaccio. The Nord Machine va a completare la nostra collezione di piccozze tecniche intese come utilizzo per alpinismo difficile o arrampicata su ghiaccio. La nostra collezione parte appunto dalla Light Machine, che è quella più orientata verso un utilizzo prettamente alpinistico e con la Nord Machine va a prendere la fetta delle picche tecniche polivalenti sia per utilizzo alpinistico che per utilizzo su cascate di ghiaccio. Questo prodotto va a prendere tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche della Nord Machine Carbon con un manico tutto in alluminio. Quindi con una testa in alluminio che può alloggiare le nostre diverse lame, il nostro manico G-Bone quindi più robusto e più performante a livello di impugnatura, impugnatura in gomma e la sua parte finale col grilletto per l'alloggio della mano. Come dicevo può alloggiare le diverse lame, le diverse lame che in questo caso vedi montata la versione forgiata, quindi la Ice forgiata a caldo, ma possono anche essere le varie lame tagliate a laser con spessori più bassi per un utilizzo più orientato al mondo cascate. Quindi qua hai una lama più robusta e forgiata a caldo. Di là hai lame più sottili che possono essere più performanti per un utilizzo prettamente ghiaccio, ma per forza di cose un po' meno robuste. Grazie a tutti!